55 sanzioni e 14 denunce nel mese di marzo da parte della polizia locale nell'ambito delle attività del nucleo interventi speciali del corpo municipale che oltretutto è impegnato anche nel monitoraggio delle rive sui cosiddetti posteggiatori abusivi. Sono quindi 33 le sanzioni per mancato rispetto delle norme anti-covid combinate dagli agenti, 4 per omesso uso della mascherina sull'autobus o all'aperto in luoghi frequentati, 3 per consumazione di alimenti e bevande nei pressi dell'esercizio, 3 per mancata distanza di sicurezza di un metro dalle persone, 1 un ristoratore che effettuava servizio per asporto ma non impediva il consumo sul posto, 7 per consumo di cibo e bevande dopo le ore di chiusura del locale, 9 per spostamento non motivato da necessità, 1 per entrata in territorio italiano senza tampone o quarantena, 5 per spostamento regionale non motivato da necessità. Nel report vengono riportate anche 7 sanzioni per accattonaggio molesto accertate, 1 in via Battisti, 3 fra strada di fiume via Giulia e volti di Chiozza, 1 in largo barriera, 1 in via Coroneo, 1 in via Leventi Settembre, seguono 3 sanzioni per vendita senza licenza con sequestro della merce e relativi allontanamenti accertate in piazza dell'Unità e in via Locchi, 4 sanzioni per aver lasciato rifiuti di piccole dimensioni in Pineta di Barcola, 2 sanzioni per vendita con licenza in zone vietate e relativi allontanamenti, 1 in piazza Cavana e 1 in piazza Unità, 2 sanzioni per conduzione cane senza guinzaglio, 1 in piazza Oberdan e 1 in largo Bonifacio, 1 sanzione per inosservanza ad adottare misure atte a impedire l'occupazione di uno stabile in via Sant'Anastasio, 1 sanzione per aver omesso la pulizia di un'area scoperta in via Sant'Anastasio, 1 sanzione per fumo in area verde nel parco della Rimembranza, 1 sanzione un parcheggiatore abusivo con relativo allontanamento in piazzale Straulino, 9 denunce per ubriachezza, in un caso anche con allontanamento, 2 denunce per aver rifiutato di fornire le generalità, 1 denunce per invasione di terreni fabbricati, 1 denunce per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, 1 denunce per imbrattamento.